Siamo con Alberto Matteucci, sconfitto, ve lo aspettavate? Dopo la tornata di 15 giorni fa, sì, sapevamo che era difficile recuperare, era quasi impossibile, pensavamo a un risultato un pochino più mite. Si paga sicuramente lo scotto di una politica nazionale che tende a penalizzare il centro-destra. Il partito del PDR a livello nazionale mi pare sia intorno al 9%, qui siamo riusciti a mantenerli intorno al 20%, c'è una lista civica che di fatto è buona parte rappresentata da esponenti del PDR che ha preso un 7%, quindi il PDR a camera è intorno al 25%. È successo quello che non era ponderabile, dovuto sicuramente anche a una mancanza di credibilità che si è verificata negli ultimi mesi da situazioni che voi avete detto sui giornali, di passaggi da un partito all'altro, in cui poi c'è stata anche quella ricerca scientifica del voto dissociato che ha penalizzato la coalizione che rappresenta. Da lì poi andare al ballottaggio, cercando accordi apparentemente, è molto più facile per chi ha una percentuale più alta rispetto per chi ha una percentuale più bassa. Per cui credo che questa sia l'unica analisi fattibile in questo momento, oltre a una ricerca e un'analisi minuziosa all'interno di ogni forza politica affinché verifichi se ci sono stati comportamenti corretti e trasparenti da parte di tutti e di tutte le persone che facevano parte della coalizione che mi sosteneva.